è un lagomorfo ed è quindi imparentato con animali come le ebri e conigli il suo parente più vicino è il pika che oggi abita le montagne dell'eurasia e del nord america proprio per questo pro lagus è anche conosciuto come pika sardo pro lagus doveva essere però una scusa ma pikachu viene da questo qui? cioè il modello su cui è basato pikachu è questo? davvero? quindi pikachu è sardo? ma che cazzo dite pikachu è sardo? infatti doveva arrivare a pesare fino a 500 grammi di peso